Assessore Roberta Gaeta, assessore con una delega molto molto importante alle politiche sociali del Comune di Napoli, questa sera uno straordinario evento rivolto soprattutto ai bambini ma di carattere espressamente sociale. Questa è stata una grandissima meravigliosa opportunità che ci ha dato l'organizzatore di questa bellissima mostra e la mostra d'oltremare ed è rivolta a tutti i nostri ragazzi, a tutti i ragazzi della città, tutti i bambini della città, in particolare tra l'altro ai ragazzi e bambini seguiti nei nostri servizi, quindi che frequentano le nostre attività, i nostri centri socioeducativi, le nostre comunità di accoglienza, le case famiglie, i bambini della nostra città. E' un'opportunità intanto perché tutti insieme vivono anche uno spazio che probabilmente non avrebbero potuto neanche visitare e riescono soltanto ad immaginare a volte. E' una grande occasione anche che ci è stata data da persone che evidentemente hanno una sensibilità in questo senso e non è per nulla scontato. Tutti noi abbiamo giocato con la Lego da bambini probabilmente, quanto aiuta a crescere la costruzione di giochi semplici? La costruzione è un gioco semplice ma in realtà è il cuore poi del cambiamento, della costruzione, del percorso, della difficoltà anche di pensare che cosa progettare, avere in mente e riuscire poi a cambiare strada facendo. Può sembrare un gioco semplice ma in realtà è un gioco estremamente complesso perché consente di cambiare lungo la strada, di immaginare, di avere fantasia, di riprodurre anche quello che si desidera, quello che si immagina e di poterlo fare anche insieme. Quindi è un gioco che si può fare da soli ma che proietta un po' anche i propri sogni, le proprie aspettative. Grazie Assessore Grazie a loro La mostra che si apre anche alla città ma soprattutto ai bambini? Sì è un evento bellissimo, innanzitutto è un nuovo evento, è la prima volta che lo facciamo e quindi come dire è una novità. Però abbiamo voluto fare una preapertura e dedicarla ai bambini che in realtà probabilmente non sarebbero venuti a visitarla e siamo già adesso pieni di bambini, ne attendiamo circa 1600 quindi siamo contentissimi. Immagino che questi giorni dedicati alla Lego vedranno generazioni e generazioni che si sono fermati attraverso il gioco, attraverso tutto quello che attraverso il gioco sviluppa la mente. Per cui meravigliosa, meravigliosa iniziativa, chapeau a chi ha pensato e a chi ha ideato insieme alla Lego questa serata e che dire insomma i bambini hanno bisogno di qualcosa di manuale che possa attivare il cervello e non solo passivamente ma anche attivamente. La manualità ha sempre creato delle ottime risorse per la mente, quindi l'ossigeno manuale per una mente più viva e forte. Va benissimo, grazie. Grazie, grazie a lei. Certo, abbiamo voluto fortemente questa apertura speciale, noi apriamo ufficialmente domani venerdì primo e chiuderemo la Kermes domenica 17 dicembre. Abbiamo voluto questa apertura speciale dedicando l'ingresso gratuito alle associazioni del Comune di Napoli per questi bambini che non avrebbero mai avuto la possibilità di acquistare un biglietto. Quindi abbiamo dedicato questo pomeriggio interamente dedicato ai bambini e dedicata la giornata solo ed esclusivamente a loro. Grazie. Grazie.